Mary Jane ASMR Ciao ragazzi, bentrovati Bentornati sul mio canale Io sono Mary Jane E sarò qui per rilassarvi se volete Volevo innanzitutto ragazzi scusarmi se in questi giorni sono stata assente dal canale O in mia assenza caricato qualche video live per non lasciarvi soli E trattasi appunto di live fatte su altre piattaforme E appunto per farle rivedere a chi se le fosse perse Però ovviamente questo non toglie il fatto che io non smetto di fare video proprio apposta per youtube Spero stiate tutti 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 Molto bene Il video di oggi sarà estremamente rilassante Ed è qualcosa che alla maggior parte di voi piace tanto Perché specialmente quando sono in live Me lo richiedete sempre Sto parlando del Plugging ASMR Ossia la rimozione dei pensieri negativi Mistate il movement Feature fluttering ASMR Mettetevi comodi ragazzi Indossate gli auricolari E rilassatevi Ovviamente al vostro relax Ci penserò io Brillevo Brille Brillevo i tuoi pensieri negativi Brille 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 Taglio 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 E sprizzalo 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 E soffio via lontano Prelevo le tue ansie Prelevo le tue paure Prelevo le tue angosce Tutto ciò che non ci fa star bene Lo togliamo fuori Piano 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 Come se le mie dita Fossero delle pinze Tagliamo 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 Zag 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 Sprizzalo 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 e soffio via lontano, non devi far altro che stare tranquillo, tranquilla, mettiti comodo e non pensare a nulla, svuota la mente da ogni pensiero inutile che ha occupato la tua giornata, ora non c'è nessuno che potrà disturbare la tua mente prelevo, prelevo, prelevo i tuoi pensieri, quelli brutti, brutti, brutti quelli proprio inutili che invadono la tua mente e possono renderti triste prelevo, prelevo i tuoi pensieri, taglio, taglio, taglio in questo modo spriciolo, 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 e soffiamo via lontano se dopo aver svuotato la mente da ogni pensiero negativo vuoi pensare a qualcosa di bello, di interessante, di positivo ci sarò io per te, inserirò buoni proposti, buone intenzioni e pensieri felici d'ora in poi la tua mente avrà soltanto pensieri felici, inseriamo così i dolci pensieri, tutte le cose belle riattiviamo i ricordi, dei giorni passati, seppur nostalgici ma belle, posizieriamo, utili da ricordare un bagaglio di pensieri felici magicamente ora ti ritrovi solo oltre che all'ilassante magicamente te li trovi anche a pensare a tutte, 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 tutte le cose belle che ti sono capitate e che ti capiteranno la mente va lasciata libera di sognare di sperare di sperare e quando abbiamo e andiamo a rimuovere i brutti 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 e rimane semmai uno spazio vuoto nella notre mentale e quello è il momento utile per riempire 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 la nostra mente di pensieri e sogni felici fuori ci sono gli uccellini che cinguentano ragazzi lo trovo un ottimo smr di sottofondo non l'andrò di certo a rimuovere all'inizio ragazzi i miei viti tolivo tutto ogni minimo rumore ho imparato a capire che alcune cose nei video smr improvvisate o alcune di sottofondo ci stanno anche per e del caso degli uccellini degli uccellini degli uccellini che cinguentano abbiamo rimosso tutti 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 i pensieri negativi dalla nostra mente abbiamo inserito i buoni propositi so che alcuni di voi probabilmente avranno pensato con questo video di cose belle e non volevo e non volevo far altro che darmi appunto questa sensazione rilassati 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 fate anche dei bei indiferibili, profondi, poi buttate fuori tutto ciò che non vi serve vi sentite più rilassati ragazzi? vi sentite poco poco meglio? io si, mi sono già rilassata insieme a voi vi ricordo ragazzi che per me siete tutti importanti e grazie del sostegno che mi date ogni singolo giorno perché la crescita in me per voi è importante ogni singolo giorno vi ricordo anche ragazzi che io faccio live quasi tutte le sere su twitch il mio canale è Mary Jane ASMR anche su twitch mi chiamo così come qui su youtube e ovviamente sotto in info box tra i commenti messi in alto in primo piano vi inserirò il link al mio canale twitch in modo che possiamo interagire anche meglio in live visto che lì si fanno solo live invece qui posso fare sia live che caricare video sto utilizzando molto anche quella piattaforma e interagisco veramente in maniera attiva con voi e questa cosa mi piace troppo mi casa quindi vi aspetto anche lì ragazzi spero di avervi rilassato cucciolotti 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 e ci rivediamo presto al prossimo video la vostra Mary Jane ciao